Allora, voi penso che molti conoscano Candy Crush. Chi non conosce Candy Crush? Vabbè, qualcuno ci dovrebbe essere. Oggi abbiamo con noi il responsabile dell'Information Security di Candy Crush, che è una persona di esperienza ultidecennale nell'ambito della sicurezza ed è pluricertificato in questo ambito. So che per molti di noi il fatto di essere pluricertificati vale poco, invece che ci piaccia o meno in ambiti aziendali ha un suo valore e non tutte le certificazioni sono fuffa, come ci piace dire alle volte, se fatte seriamente alcune sono veramente arricchenti dal punto di vista professionale. Quindi lascerei la parola a Giacomo con la sicurezza nelle aziende agili, dove Agile sta per Agile Management e Agile Gestione, insomma, la gestione Agile dei progetti. Appena è a posto col microfono possiamo partire? Eccoci. No, cambio batterie. Già fatto, perfetto. Salve a tutti, io sono Giacomo e anch'io non credo nelle certificazioni. Le mie certificazioni, per esempio, sono nessuna vendor-related e sono principalmente uno strumento di marketing per cercare lavoro. Poi ci sono altre che invece magari ti danno più valore, per esempio Sapsa, che è una metodologia basata su Zachman, che è un framework di enterprise architecture. però anche lì c'è tanta fede, ma alcuni principi credo che abbiano valore. detto questo, quindi oggi parliamo di Information Security in Agile Environment. Spero, chi sa cosa sono metodologie agili? Quindi, soprattutto io sono dieci anni che vivo in Spagna lavorando in inglese, per cui il mio italiano ne ha risentito. Quindi parlo pessimo inglese, pessimo spagnolo e pessimo italiano. Questo è un po' da dove vengo, ho iniziato a lavorare in Italia, in Telecom, in Cadit, che è un gruppo che lavora per sviluppare software per banche, mai direttamente. quando ho realizzato che io lavoravo nel SOC di Roma e realizzai che non saremmo mai stati cool come i cugini di Milano, quindi decisi di emigrare e finì a lavorare in online gambling. Ho lavorato per una serie di aziende e alla fine sono finito in King. Questa è l'evoluzione del mio karma, che è una metrica piuttosto importante per me. Quindi stiamo migliorando e niente regimi totalitari per me nel prossimo futuro, speriamo. Spero di continuare con questa curva. King, nel 2015, questo è per capire da dove vengo. 2 miliardi di dollari di fatturato, 500 milioni di usanti mensili, unici, 12 uffici, più di 2 mila impiegati, più di una metà sviluppatori, sviluppatori incluso data scientist, sistemi HR, finance, e il team con cui lavoro è composto da mediamente 10-15 persone. Ci occupiamo di security cooperation, identity management, abbiamo un red team, e poi c'è un altro, che adesso non mi viene in mente, però faranno qualcosa anche loro sicuramente. Questa cosa è abbastanza divertente. Ah, network security. Io vengo da un background di sviluppatore, per cui non apprezzo tanto la network security. Quando ero piccolo sognavo di essere CCI, non è mai successo, per cui magari sono biased a bit. Nel 2016 ci siamo stati comprati da Activision Blizzard per 5.9 miliardi, però avevamo un miliardo in cash, quindi in realtà ci hanno preso a sconto e al momento siamo una unità indipendente di Activision Blizzard e lo stesso è Activision e Blizzard, sono due aziende completamente indipendenti fra loro. Quindi cosa è agile? Una breve disgressione. So, basicamente, quando ho iniziato a lavorare, tutti lavoravano con un waterfall, dove ci sono una serie di fasi, una dietro l'altra, sequenziali, quindi si definiscono i requisiti, i requisiti tecnici, si testa l'applicazione, poi si testa e si va in produzione. Una feature importante di agile è che si segue un approccio iterativo dove ad ogni iterazione si cerca di sviluppare qualcosa che abbia senso per l'utilizzatore di quello che si sta sviluppando e con lo scopo di avere un feedback più diretto con il cliente, quindi diciamo con l'utente. Invece che aspettare un anno, magari, per ricevere il feedback, magari dopo un mese si rilascia qualcosa e si può capire se stiamo facendo un percorso giusto, se il mercato ha cambiato. Quindi una delle mie certificazioni è Scrum Master, che è un corso di due giorni, quindi vabbè. Io penso che dei principi di agile sono corretti e è vero quello che i promotori di agile promettono di deliverare. Delivery. Quindi approccio iterativo, short feedback, fail fast, un'altra feature importante, ovvero se andiamo in una direzione sbagliata possiamo correggere e buttare via l'abbiamo fatto e cercare di imparare da quello. No dependencies, che questa è una critica per security, non ci dovrebbero essere dipendenze fuori dal team, per cui io che vado da un team con la bella checklist non vengo ben accolto. E empowerment, ovvero sia il team ha il potere di prendere decisioni, questi sono quattro principi patrici, individual interaction over processes and tools, software deve funzionare, bisogna dare più importanza al fatto che il codice funzioni rispetto alla documentazione, collaborare col cliente e non focalizzarsi sul contratto, diciamo, e essere pronti a rispondere ai cambiamenti. E il più interessante qui, o uno dei più interessanti è il primo dove, processes, no? Security is a process, qui abbiamo un bel conflitto. Comunque, questa non è una scusa per non scrivere documentazione, vorrei precisarlo. Questa è un'analisi un po' più approfondita dello tipico sprint, sprint può essere due, tre, quattro settimane, si parte da un backlog, una collezione di feature che devono essere sviluppate, e quindi c'è una fase di planning dove si decide cosa viene sviluppato, si sviluppa, si fa un review dello sprint per vedere cosa è andato bene o male, e poi si fa anche un altro perspective che di solito è un po' più generica sul processo, e su come il team sta lavorando, eccetera, eccetera. In Agile di solito non c'è un project manager, c'è un product owner, e il product owner gestisce il backlog, e il suo lavoro più importante è dire no. Di solito non si lavora con deadlines, una metrica molto utile è cercare di poter prevedere quello che sarà il throughput del team utilizzando la storia passata. Quindi un obiettivo è cercare di poter prevedere cosa riuscirà a fare il team in un certo periodo di tempo. Fail fast. Fail fast non funziona in tutti i business. Per esempio, se state lanciando un missile sulla Luna, probabilmente non volete fallire, a meno che avete i soldi di SpaceX. quindi sicuramente Agile può non essere assolutamente un'opzione in alcuni contesti, anche se alcuni principi rimangono validi. Il fatto, non so, communication, ci deve essere un sacco di comunicazioni, io penso che quello sia sempre, sempre una buona cosa. Agile e security. Queste sono delle aree che, in ambito security, che potrebbero essere i capitoli del vostro security strategy, e questa è un'analisi che ho fatto anche con altri colleghi di altre imprese su come Agile impatta alcune di queste aree. Per esempio, policy management, application security, change control, vulnerability management, system standards. Sono le aree dove ho incontrato più difficoltà a attuare. Anch'io vengo da un passato dove le imprese non erano agili, potevamo dire sempre no, e bloccare i progetti, però questo non è più un'opzione, perché il business vuole andare veloce. È un core value del business, e non accetteranno nessun compromesso. Quindi, dobbiamo lavorare intorno a questo problema. ho fatto un'analisi, per esempio, policies. Ho visto cose incredibili, ho visto... In molte aziende vedo... Io ho iniziato da zero a tre team, come leader o no, e alle volte il primo approccio è stato buttiamo giù una policy, la scarichiamo da internet, e poi cosa ci fa? Niente. E per esempio, questo in King, il mio... Abbiamo provato, non ero lì ancora, quando è stato provato questo approccio, con il risultato che le policy erano lettera morta. E per il discorso di prima anche, che le policy sono qualcosa di alieno al team. Non solo alieno al team, ma anche a tutto il branch di technology, dove magari c'è un programma di qualità, ci sono degli standard, che però non hanno niente a che fare con quelle che sono le politiche di sicurezza. Come possiamo migliorare la situazione qua? Un principio di agile è dare al cliente un prodotto di qualità, quindi io come utente di una plataforma vorrei avere un'esperienza sicura, e quindi là si può fare il lobbying, rendendo presente che gli utenti vogliono security. il product owner è la persona che può includere security nella lista degli stakeholders, e fare in modo che specifici topics vengano presi in considerazione. E di solito dove si fa agile in maniera corretta, c'è una ricerca della qualità, c'è una ricerca di peer reviewing, per esempio, e quindi lavorare con i team leaders per dei vari team tecnici per lavorare su questi temi. E poi fare cose e implementare patterns che abbiano senso, quindi fare un'analisi dei rischi che abbia senso, sia attuale, sia consideri i requisiti del business, dei clienti, perché se no il team non lo non seguirà, non farà quello che gli stai chiedendo. Security SDLC chiaramente è uno delle aree più impattate, una delle prime aziende che ha scritto qualcosa che io sappia è Microsoft, c'è un agile SDLC methodology che pensi del 2005, però se andate a vederla c'è un sacco di processo ancora, è qualcosa che per esempio in King non funzionerà mai. Quello che si può provare è includere le security nel programma di quality, lavorare con gli developer, cercare un campione in tutti i team, nel mio caso ci saranno cinquantina di team in King quindi cercare di avere qualcuno in ogni team e sfruttare il continuous integration loop ovvero sia quella cosa che prende il codice sorgente e fa un sacco di cose e poi il codice arriva in produzione che è riassunto qua, questo è dalla documentazione di Jenkins che è una delle piattaforme più utilizzate e ci sono varie fasi il codice entra a sinistra e esce a destra diciamo e ci sono un sacco di opportunità per includere dei controlli quindi dall'analisi nell'attività del versioning system all'analisi a includere test di sicurezza automatizzati nei test analisi per esempio di integrity nel deployment e end to end testing possiamo per esempio analizzare l'infrastruttura insieme con l'artefatto software una cosa importante sono le librerie specialmente perché negli ultimi periodi con linguaggi di nuova generazione è molto naturale includere librerie che vengono da internet le puoi con brew o qualsiasi altro tool le scarichi e via e può essere un vettore di vulnerabilità molto importante per esempio code house che era un repository direi molto importante 15 anni fa ha chiuso il dominio è stato acquistato da qualcun altro e ha servito malware per un certo periodo di tempo quindi ritornerò su questo dopo ma le persone sono parte importantissima dell'equazione se non la più importante prima nella presentazione di Mariana abbiamo visto come abbiamo i vari ring ring meno 3 ring 0 io ho pensato il migliore backdoor o rootkit è un impiegato perché probabilmente il più difficile da detectare portare la gente dalla tua parte e spiegare perché i controlli sono necessari questo è molto importante invece che partendo da zero per esempio forzare una password policy senza spiegare perché è importante o bloccare accesso a produzione senza spiegare perché è importante spiegando le cose prima sicuramente gli utenti reagiranno in maniera più positiva non positiva però più positiva è una cosa che ho osservato ultimamente è che molte volte molte vulnerabilità di incidenti sono riportate da esseri umani e non da i vari tool che avete nella vostra rete per cui anche da un punto di vista di detection ha senso puntare sugli esseri umani due parole su due amici di agile bring your own device tre suggerimenti cercare di immaginarsi un perimetro ancora almeno e cercare di dare a questi device il minimo accesso possibile che abbia senso che gli utenti accettino adottare qualche sorta di mobile device management può essere ci sono tante tecnologie e Apple Microsoft hanno pure le loro offerte e focalizzarti sui dati invece sui device per esempio nella mia azienda i device non sono il mio budget quindi non mi interessa se vengono rubati mi interessano i dati quindi se il device è cifrato e la password il pin era lungo eccetera eccetera per me non è un incidente critico cloud io distingo due tipologie di servizi servizi verticali o piattaforme di computing per i servizi verticali il problema ci sono molte soluzioni sul mercato però vanno a diciamo diminuire quello che è il motivo per cui le aziende usano cloud ovvero sia la flessibilità velocità eccetera eccetera quello che consiglio o quello che sto provando a fare è focalizzarsi su identity management logs credo che la sicurezza nel cloud vada fatta nel cloud ovvero sia con tool che sono nel cloud l'altro aspetto è piattaforme di computing qui è ancora più delicato quando ho iniziato a lavorare in security col cloud per me il cloud era come un altro data center però in realtà è diverso e offre vantaggi e svantaggi per cui i vantaggi sono per esempio che l'interfaccia è ben definita amazon abbiamo la API e tante cose possono essere fatte con quella gli svantaggi è che basta un click alle volte si cancella tutto per esempio mi piacevo questa slide per il concetto del perimetro sto ancora cercando di capire se il perimetro esiste o no credo che il perimetro decisamente esiste in produzione in ambienti di produzione per esempio ma in corporate ne possiamo discutere ne possiamo discutere perché anche per esempio io ho il mio portato di lavoro qua per esempio ho la VPN però ho tanti applicativi nel cloud per esempio e ho two factor per entrare quindi multi factor authentication però non c'è perimetro io posso lavorare da qua o da starbucks e magari fra dieci anni la mia azienda non avrà più un ufficio tutti lavoreremo da casa e a quel punto boh a che ore siamo? a che ore sono? vai libero identity management identity management è uno dei miei controlli preferiti perché alla gente piace perché puoi offrire un servizio più sicuro e più comodo da utilizzare e quindi quando lavoriamo in ambiente agile e quando dico agile non sto parlando solo di ambienti di sviluppo software tutto può essere fatto utilizzando alcuni principi per esempio security può essere fatta cercando di fare un MVP prima e poi iterare incrementare lo scope eccetera eccetera identity automatizzare il più possibile idealmente puntare a architetture aperte è pieno di protocolli liberi cercare di avere una soluzione che funzioni per per i modelli che l'impresa che la vostra azienda utilizza ovvero sia cloud on premise potrebbero esserci più dimensioni questa è la dimensione principale per me essere lasciare spazio per eccezioni perché quello che disegnerete non funziona mai per tutto e cercare di di includere più categorie possibili per esempio service accounts che sono un problema piuttosto rilevante per chiunque privilege account contractors e anche qua identificare un MVP iterate e comunicare comunicare un sacco con i vostri stakeholders principalmente identity management che è qualcosa che tutti i vostri utenti utilizzeranno questo è un esempio di flusso dove questo è un modello piuttosto basi basilare dove in alta a sinistra abbiamo la job position che viene dal nostro sistema autoritativo che la job position diciamo guida come i permessi che il mio utente la destra avrà diciamo birthright entitlements entitlements sono i permessi quindi quando qualcuno inizia nella mia impresa alcuni permessi vengono assegnati dipendendo dalla loro posizione e poi la piattaforma permette a tutti gli impiegati di richiedere permessi addizionali che possono essere basici o avanzati e a seconda della categoria abbiamo diversi workflows che possono includere security possono includere la 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 approval del line manager o o self service automation automation è molto molto importante secondo me specialmente cercando se cerchiamo di essere consistenti con lo scope che vogliamo coprire e ci sono alcune aree specifiche dove ci sono un sacco di opportunità stock operations quindi se avete il vostro security operations center che può essere 24-7 o lavorare in orario d'ufficio l'idea è di cercare di avere un workflow dove i dati vanno dalle sonde fino a essere a diventare alerts che vengono comunicati al team in in maniera che abbia senso incident mitigation questo è abbastanza basico per esempio è parte delle stock operations se vogliamo ovvero sia se abbiamo per esempio un il nostro un anti la nostra sandbox detetta un un malware potrebbe comunicare attraverso il sistema di orchestration con il nostro sistema di network control per spostare il device su una vlan segregata per esempio oppure se siamo cattivi facciamo un tabula rasa della macchina e la ripuliamo immediatamente e come già detto è identity management anche qui idealmente dobbiamo evitare il più possibile operazioni manuale developers 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 non so chi si ricorda questo io l'ho trovato eccezionale ci vogliono sviluppatori per fare automazione o qualsiasi altra cosa credo per cui per esempio nel mio team abbiamo due sviluppatori che sono condivisi con IT però ci danno una mano a sviluppare tutte le integrazioni e l'altro concetto è API versus dashboard il mio team non usa dashboard più il mio team usa API e poi gli eventi vengono vengono deliberati su canali che noi definiamo nella maniera che noi definiamo una volta che per esempio un evento è stato si apre un incidente allora forse andiamo alla dashboard a verificare quello in dettaglio quello che è successo però non abbiamo tempo per saltare da una dashboard all'altra spesso sono dashboard che non si integrano con il nostro identity management e quindi non non ci piacciono quindi noi quando guardiamo un prodotto la prima cosa che guardiamo è l'API sicuramente questo è un esempio di SOC platform dove sulla destra abbiamo network IDS endpoint agents logs full pocket capture tutto si integra nel vostro sim o simile qui ho messo sim però è più un sistema di orchestration di solito quando qualcuno vende un sim utilizza l'interfaccia per vendere il prodotto che è la cosa che a noi veramente non interessa abbiamo un'integrazione con un sistema di sandbox ovvero sia un tool che estrae file e gli esplode in un sistema controllato e cercando indicatori che permettono di decidere se il file in questione è malware o no abbiamo un sistema di threat intelligence per esempio possiamo estrarre tutti i domini dal nostro traffico corporativo e verificare per esempio se sono un dominio che è stato registrato ieri che è un generato da un algoritmo perché magari è lunghissimo e non significa niente può arricchire un evento di sicurezza con l'obiettivo di eliminare i falsi positivi che sono un problema che tutti in security penso abbiano presente sulla sinistra abbiamo come diveriamo questi eventi ticketing system email instant messenger che di solito per quello che ho visto è la piattaforma più importante quindi per esempio sviluppare bot che mandano un alert direttamente in chat è una adesso abbastanza costitudine poi dobbiamo avere integrazione con sistemi tipo pager duty per gestire persone in chiamata ok the human factor the human factor secondo me è il fattore più importante e ci sono tre cose che sto cercando di fare increase awareness quindi sto cercando di far capire ai miei colleghi cosa è security cosa non fare cosa fare cercando di portarli dalla mia parte così giocano per me e non per l'avversario includerli nelle decisioni e almeno nella fase iniziale almeno nel nel per capire la user acceptance di un certo controllo perché perché comunque almeno al fine di identificare il controllo che abbia l'acceptance più alta e lead by example questo penso sia il più importante quindi io e il mio team cerchiamo di dare l'esempio perché sennò non possiamo predicare bene e razzolare male no? quindi stabilire una cultura di mutual trust and respect comunicare and look for feedback e provare a identificare dove nell'azienda possiamo avere il maggior impatto nel più breve tempo per esempio io lavoro tantissimo con IT per fare in modo che loro e loro per esempio adesso sono un team che fa security senza bisogno del mio aiuto noi solo diamo diamo una mano e diamo una mano a priorizzare monitoriamo però fanno per esempio fanno un sacco di lavoro su Active Directory con 5-6 livelli di accesso e tutti i mesi deployano nuove features di sicurezza e noi stiamo a guardare phishing phishing è una tecnica super cheap e anche efficace tra l'altro quindi è importante fare campagne nella vostra azienda è importante cercare di utilizzare le campagne per fare education è importante identificare gli utenti nella vostra azienda che sono più esposti per esempio HR che devono aprire un sacco di curriculum o persone che hanno un sacco di input da fuori quando facciamo una phishing campaign cioè noi stessi con il nostro team mette su un sito fittizio che replica uno dei nostri portali e poi mandiamo le email per esempio a un segmento specifico di colleghi poi analizziamo le risposte e ne abbiamo quattro categorie c'è chi riporta l'incidente chi non fa niente chi clicca sulla mail e chi installa e installa abbiamo avuto un caso dove abbiamo replicato il nostro single sign on che è un portale abbiamo messo un dominio simile ma non uguale abbiamo replicato tutto il sito e abbiamo avuto un collega che ha cercato per 20 minuti di cambiare la sua password no però ho vinto un po' di training non arriverete mai a 0% però una metrica importante è quanto ci vuole perché qualcuno riporti un incidente di sicurezza abbiamo fatto un test involontario diciamo e è stato siamo stati modificati in 8 minuti e già è un attacco super ben fatto ma vogliamo migliorare ancora però ho già 8 minuti rispetto a infinito è stato un buon risultato quindi metriche quanti come fate a sapere se i vostri colleghi sono security aware noi osserviamo un trend dove più facciamo security awareness quindi abbiamo più di 12 uffici abbiamo detto però siamo tutti a Barcellona il mio team qualcuno a Londra andiamo in tutti gli uffici e facciamo una campagna di awareness e verifichiamo come dopo averla fatta riceviamo un sacco di alerts diciamo quanto ci vuole riportare un ufficio in attack endpoint security quindi possiamo analizzare il trend di malware spyware hardware che circola nella rete e red team red team sarebbe quando facciamo esercizi contro la nostra quando simuliamo un penetration diciamo un attacco di sicurezza alla nostra azienda che può essere via software via fisico qualcuno che cerca di entrare nell'ufficio e verifichiamo come i colleghi rispondono due parole su compliance compliance non è security compliance di solito si vada su standard piuttosto vecchi e non attuali e non business aware quindi non è facile alle volte dall'altro canto può essere un buon cavallo di troia diciamo per quando dobbiamo dobbiamo installare controlli che non sono popolari si è guidata si è finance per esempio come Sarbanes-Hoxley se siete un'azienda pubblica negli Stati Uniti di solito gli auditor non sanno tanto l'informatica e potete non mentire ma presentare le cose in maniera da passare l'audit e poi abbiamo ISO è risk based da tanto tempo ovvero sia dei vari domini voi potete giustificare perché non state facendo niente su alcuni di quelli però dovete giustificarlo però molti auditori non ne sono al corrente risk management due parole su risk management risk management secondo me è fondamentale in ambienti agile o no se abbiamo l'assumption che non possiamo proteggerci contro tutte le minacce è importante capire da cosa dobbiamo proteggerci è importante capire cosa il business vuole che proteggiamo quindi dobbiamo allinearci al business dobbiamo monitorare come il context cambia dobbiamo identificare i maggiori rischi questo è quello che faccio io identificare i maggiori rischi e i casi peggiori un approccio potrebbe essere cercare di identificare tutti i rischi le vulnerabilità i threat fare una bella matrice e poi buttarla via perché il context ha cambiato quindi anche qui il punto è cercare di fare qualcosa che abbia senso fare il risk management in maniera corretta ci permette di presentare un qual è il retro investment di security quando il board ci chiede perché spendiamo un sacco di soldi ci può aiutare a definire la nostra technical vision che per me è ci possiamo focalizzare nel prevenire gli attacchi nel mitigarli io penso che se molti di miei colleghi sono d'accordo sul fatto che non possiamo prevenire tutti gli attacchi allora quello che dobbiamo fare è essere pronti però se no non abbiamo scuse se pensiamo che un attacco sarà che siamo soggetti a un possibile attacco che si materializzerà dobbiamo essere sicuri che abbiamo fatto il possibile per essere pronti balance technical control con non technical per esempio magari il vostro legal team è fortissimo quindi magari non vi preoccupate troppo se il vostro intellectual property viene rubato o magari sì questo oppure potete fare un sacco di security awareness lavorare con colleghi o forse no dovete bilanciare i vari controlli cambiare le metriche dipendendo dipendendo dall'audience questo è un po' sbagliato nel senso non è cambiare le metriche ma cambiare come si presentano le metriche come si aggregano per cui se parlate col vostro amministratore delegato non penso agli interessi quanti attacchi siano arrivati sul firewall gli interesserà per esempio qual è il rischio che ci sia un danno al brand o alla produttività e se parlate con il leadership tecnologica magari sono interessati a sapere se è un processo maturo o no secondo le metriche che voi avete definito le metriche devono avere senso per esempio io non credo molto in metriche come quanti spam email abbiamo bloccato o quanti eventi ha processato il nostro sim per esempio quanti attacchi malware magari il mese scorso abbiamo avuto di più perché abbiamo migliorato la visibilità non perché siamo più sotto attacco quindi non è facilissimo analizzare la storia passata questo è un lusso che magari alcuni di voi hanno perché la vostra azienda è stata in piedi decine di anni e potete e avete un sacco di dati su cui lavorare per capire qual è il trend questo è un po' il discorso di come presentare e di cosa presentare a seconda di con chi state parlando per esempio questo esempio è pensato se la vostra azienda ha molti siti social dove pubblicate informazioni o fate marketing quindi security si preoccupa di certe metriche quando parlate con il tech leadership saranno diverse quando parlate con il board qual è il rischio che un attacco ai vostri siti social si materializzi con materializzi una perdita di valore del brand quindi io penso essere preparati sia una delle cose più importanti e spesso della più sottovalutata grazie grazie Giacomo ho apprezzato in particolare la tua ultima slide veramente tanto perché perché spiega chiaramente cosa dire a chi onde evitare faccia assolutamente di che cosa stanno parlando questi e quindi la non la non realizzazione poi di cose magari necessarie invece per la sicurezza volevo chiedere se qualcuno ha domande per Giacomo una domanda la concediamo perché poi passiamo a Simone ok chi si occupa del microfono per le domande eccolo ciao senti un'informazione sulla parte di Scrum Agile sviluppo a livello sicuro non ho capito come la gestite nel senso abbiamo lo spring abbiamo le quattro settimane per sviluppare la nuova feature come gestisci la parte di sicurezza nello sviluppo tu prima hai parlato di un campione all'interno del team che dovrebbe essere quello che tra virgolette si preoccupa di controllare al suo interno se ci sono degli exploit se non è stato sviluppato bene eccetera ma quindi lo gestire solo internamente al team o trasformate un gruppo esterno come se fosse il cliente per cui il tuo gruppo Agile si confronta con quello piuttosto che col cliente finale o come? allora l'obiettivo è cercare di rendere il team autosufficiente per cui fare in modo che l'intero team possa prendersi in carico possa sviluppare codice sicuro by default siccome questa è un po' un'utopia quello che facciamo è il team di security gestisce dei controlli più o meno automatizzati fuori dal team per esempio quando il team rilascia codice possiamo analizzarlo possiamo fare dei penetration test possiamo fare del code audit quindi possiamo analizzare il codice sorgente in maniera tale da non impattare il team questo è un po' con la filosofia grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti